E salve a tutti, siamo qui a Mondo Fitness con Lady Sisma, la DJ Simona Gangemi, siamo qui a Roma al parco di Tor di Quinto, siamo stanchi. Allora Simona, raccontaci un po' la tua estate 2014. Buonasera, tante date, tante serate in discoteca, eventi in giro per l'Italia, sono sempre con la valigia pronta e la mia borsa da CD, con tutti i CD la cuffia, però sarà un'estate anche di divertimento e di vacanza. Quali sono le tue canzoni, i tuoi martelli, si chiamano ancora così, ai miei tempi si chiamavano così di quest'estate, secondo te? Allora io non amo mettere quelle musiche commerciali che usano tutti, mi piace più una musica ritmata, tribale, anche Afro House che sta andando tantissimo di questo periodo e soprattutto funziona nell'ambito del fitness, dove ci sono lezioni di fitness, insomma piace anche il DJ set accostato all'allenamento. E infatti siamo qui in un evento importante, cioè l'inaugurazione 9 giugno 2014 di Mondo Fitness e appunto Simona tu poi abbiamo visto la tua silhouette, credo che farai molto fitness oltre a ballare. Io mi alleno quattro volte a settimana con Impacto Training che è un allenamento ad alta intensità che ti consente di bruciare più calorie di un allenamento normale. Cardio fitness? No, cardio fitness, è ad alta intensità e ci alleniamo dappertutto, nei parchi, anche d'inverno, estate e inverno per noi non conta niente, quindi... Quindi musica e sport, qualche consiglio a chi vuole dimagrire in maniera semplice, a qualche ragazza per la prova costume, anche se ormai ci siamo? Musica, sport, dieta, tanto allenamento, almeno quattro volte a settimana. Ok, grazie, buon divertimento, grazie a te, ciao. Ciao, grazie a te, ciao.